Ma tu pensi che sta a nappa? Cosa vuoi fare? Ma dai non mi spingi! Dai! Guarda! Mi scava la cacca! La cacca nel culo! Guarda, guarda! Ma non è un culo quella! Cosa accendi lì? Guarda, guarda, guarda come mi ha insegnato! Andare avanti, poi indietro e poi alle 7 metri allenamento! E' cariclissimo oriano! Ma non fa la cacca! E sta a 40? Dai! Oh! 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 Vai! Vai! Ci sta a venire addosso! Ma che fai? Oh! Vai! Vai! No, no, ho paura! Vai via! Faccio la cacca! Eh! Faccio la cacca! Ma ci fai? Oh no! Oh no! Oh no! Ti ho un po' il culo in fiamme! Oh! Oh! Il culo in fiamme! Oh no! 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 Ce l'abbiamo fatta! Oriana alle 7 metri ci cerca di allenamento! Quando andiamo? Ma che fai? Oh no! Ah! Scatto di culo! Il culo marcio! Marcio come il culo della mamma! Di Oriana morto! C'ho la cacca che mi scatto e sono ancora qui! Avanti! Dimmi tutto! Ah il culo! Perché l'hai scattato lì nel culo? Sì! Sì! Arriva la gente! La cacca è fatta! Per le due sono da te! Prepara il bagno secco e ballo! Io vado!